Buche, spazzatura, proprio in sede nel degrado assoluto? Guardi qua andiamo malissimo, il problema a buche esiste da anni, ma mai come ora. Praticamente la strada, come vedi lei, è una mulattiera. Io ho fatto pecca, siamo andati dal prefetto e non ci ha ricevuto nonostante l'appuntamento, abbiamo lasciato le carte al prefetto, abbiamo fatto dei posti in procura, abbiamo raccolto 230 firme, messo un avvocato, paghiamo le tasse, ma purtroppo il comune in cambio non ci dà nessun servizio. Non sappiamo più come cittadini cosa avranno, noi siamo persi per bene. La spazzatura se le nota è più oltre 10 giorni che non passano. Una via abbandonata, 800 abitanti abitano nella zona, ma nessuno ci dà credito. Guardi che cosa incredibile, un cittadino che paga le tasse e rivendica i propri diritti, come mai non vi ascolto? È una cosa assurda, non arriva la data e la paghiamo, paghiamo tutto. Ma qua non arriva mai nessuno. Io conosco il sindaco, ogni volta che il sindaco dice sì lo so, ma lo so, ma che fai? Non provvede figlio. Siamo messe male, guardi le macchine distrutte, donne che sono finite all'ospedale perché per le buche di sera non si vede e cadono, ragazzi con il motorino che cadono. Cioè è un disastro assoluto. Combattiamo, cioè noi civilmente abbiamo raccolto le firme, ha fatto le poste al prefetto, ha messo un avvocato, mandate le PEC, una delegazione è andata al comune. Io sono stesso andato all'ufficio del comune a mettere almeno qualche divento di sosta là sopra, ha risapito quanto costruito negli segnali. Cioè cose assurde, non sappiamo più cosa fare. Cioè un cittadino ha un patto con il comune, dice io ti pago le tasse e tu puoi dare i servizi. No, io ti pago le tasse e tu non mi dai niente. La spazzatura qua c'è molta gente che non la paga, sono cumuli di spazzatura buttati. Nessuno viene a controllare chi non paga la spazzatura. Abbiamo l'acqua che passa sotto le case, se lei nota là fuori, là sotto. Là sotto le case c'è un pericolo di cedimento dei fabbricati. Se lei rompe qualche pilastro, vede che i ferri sono tutti sottilissimi perché l'acqua si infiltra. Non sappiamo cosa fare, guardi, siamo allibiti, non vediamo l'ora che questo ne manda a casa. È una situazione veramente insostenibile anche perché va contro ogni norma di incolumità e di mancanza di sicurezza. Noi rischiamo di aprire i portoni e di avere i po' di topi in casa. Ci sono montagne di spazzatura. Stranamente noi abbiamo verificato che gli operatori passano davanti alla traversa e passano dritti, non entrano, non si capisce perché. Da 15 giorni, stamattina io ho personalmente sentito il consigliere Castorina che si è prestato, mi ha fatto la cortesia di farsi mandare le foto per trasmettere all'AVR. Ma io ci tengo a precisare che io sono una cittadina, uno di quei cittadini che pagano le tasse. Semplicemente per questo palazzo che mi ha lasciato mio padre dopo molti sacrifici per poterlo costruire, io ho pagato in questo mese 1.400 euro di saldo di IMU e 1.400 li avevo pagati a giugno. E in più ho pagato 1.800 euro di tasse di Tares. E non è ammissibile che un cittadino che rispetta i propri doveri pagando tasse e non potendo coprire altre spese con quelle somme che dedica alle tasse perché è un proprio dovere, non possa poi avere rispettati i propri diritti come vivere nelle montagne di spazzatura, esci dalla porta e rischi di inciampare nella nettezza urbana, nella spazzatura, i cani ci fanno i propri bisogni, escono dalla strada, come ben vedete noi ci siamo illuminati con le luci di Natale, la strada è illuminata con le nostre luci di Natale, perché rischiamo di uscire a piedi nella strada e di inciampare in una buca e ammazzarci.